La Scudetto Cup fa il bis al Festival Danunziano 2024, dopo il successo dello scorso anno, secondo atto per il torneo internazionale di calcio giovanile Under-15, che vedrà protagonisti i principali club italiani. Le squadre di Juventus, Milan, Inter, Fiorentina, Roma e Pescara si sfideranno infatti dal 3 al 7 settembre sui cambi di Pescara e Montesilvano, con la finalissima prevista per sabato 7. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'onorevole Guerino Testa, in rappresentanza del Ministero dello Sport, l'assessore comunale Patrizia Martelli, con l'assessore di Montesilvano Alessandro Pompei e gli organizzatori dell'evento Antonio Martorella e Claudio Croce per la Renato Curi Pescara. È un grande torneo giovanile Under-15 di caratura nazionale, come potete vedere dalle squadre che partecipano a Pescara e quindi aggiungere nel Festival Danunziano anche un altro grande evento sportivo dedicato ai giovanissimi.